bene, quindi appunto la gente inizia a urlare al forno, al forno e appunto c'era un forno abbastanza centrale nella corsia dei servi che oggi sarebbe Corso Vittorio Emanuele a Milano cioè una delle vie più centrali di Milano, quindi vicino al Duomo c'era questo forno, il forno delle grucce si direbbe in toscano in milanese invece i manzoni sarebbero parole un po' eteroclite cioè un po' strane agli orecchie di chi non è abituato a sentire il milanese quindi sarebbe El Prestín di Skansk però al di là di questo, quindi questo forno appunto i padroni della bottega stavano interrogando un garzone tornato scarico quindi lui poverino ragazzino un po' frastornato sbigottito e abbarroffato, riferiva balbettando quindi la sua triste avventura, insomma che l'hanno aggredito quindi non ha colpa e si sente questo calpestio urlo della folla che arriva e quindi si spaventano tutti serra, serra, viene detto quindi chiudi, chiudi e viene chiamato il capitano di giustizia arriva il capitano con una serie di guardie della Bardien insomma per mantenere l'ordine però appunto la pressione della folla è molto molto forte quindi in qualche modo il capitano riesce a entrare nel forno perché il capitano picchia, ripicchia, urla che gli aprano alla porta del forno vedete anche lì l'assindetto quelli di dentro vedono dalle finestre scendono di corsa, aprono, il capitano entra quindi lui e gli alabardieri si, diciamo, rifugiano all'interno del forno per gestire la situazione e insomma dalla finestra del terrazzino, insomma del forno cercano di, cerca insomma il capitano di far placare la gente gli si rivolge inizialmente in modo un po' conciliante dice andate, tornate a casa, avrete il pane non è questo il modo, la maniera cosa fate laggiù? smettetela con quei ferri vedete il discorso piano piano si fa un pochino più concitato vergogna, voi altri milanesi che siete nominati per la montagna in tutto il mondo sentite, sentite, siete sempre stati buoni fi, semplicemente dicendo figlioli canaglia perché improvvisamente gli arriva una pietra in testa infatti questa rapida mutazione di stile fu cagionata questa pietra che gli arriva in testa e quindi anche il capitano, diciamo, impazzisce continua a gridare canaglia, canaglia e la situazione sembrerebbe, diciamo, precipitare alla fine quindi appunto anche la pressione delle guardie è tali due rimangono uccisi nella folla anche per, insomma, un po' per la cacca che spinge un po' per la repressione dei soldati ma, appunto, questa folla agitata alla fine il furore accrebbe le forze della minutitudine la porta fu sfondata e rinferriate svelte cioè di velte e alla fine quindi tutti scappano in soffitta quelli del forno e le guardie la vista della preda fece dimenticare ai vincitori i disegni di vendette sanguinose quindi invece che desiderare di vendicarsi o contro le guardie o contro quelli del forno la folla se ne frega perché appena vede il pane e la farina si lancia in modo folle su, diciamo, le materie prime quindi il forno delle grucce viene messo sotto sopra si dice anche poi che gli altri forni anche lì si raduna un po' di gente però non c'era una folla tale da consentire di assediarli e le guardie invece riescono in quel caso, piuttosto che andare al forno delle grucce rischiare di essere linciati quindi sorvegliano gli altri forni e riescono a gestire la situazione grazie a tutti grazie a tutti